Ragazzi guardate il video fino alla fine perché ci sarà una bellissima sorpresa Konnichiwa Ciao a tutti Bandacorna e Bandacorni Oggi sono qua per fare un nuovo video A grande richiesta farò il video all Allora ho un po' di cose qui da farvi vedere E niente iniziamo Ragazzi allora in questo periodo mi sono fizzata Come prima cosa vi faccio vedere le bandane Perché in questo periodo mi sono fizzata con le bandane barra fasce Allora le prime che vi faccio vedere sono queste qui Aiuto questa no si è rotta la bustina Vai via bustina Allora sono queste qui Una grigiatra vedete che è scoccolata E questa qui rosa Questa qui è la parte di inizio E questa è quella davanti che fa tipo il modino E l'ascia è sempre lo stesso modello ma di un altro colore Ed è fatta così vedo tutte le liggio E le sono molto cariche queste due Vedete veramente questa rosa Però il modello proprio di queste due non è che mi ricaccia molto Perché il nodo in pratica è troppo grande Infatti non le metto quasi mai Ok Poi altre fasce Sono queste qui E sono queste due Fatte così Una bordeaux E un'altra nera Mi piace di più anche della nera la bordeaux Perché è molto particolare Mi piace un sacco tipo per metterla Quindi mi piace Questa qui appunto è bordeaux di un sacco È normalissima Molto bellina È una bandana Una fascia Normale Appunto è una fascia fatta bandana E poi nera Mi piacciono un sacco queste due Per ragazze Altre bandana Adesso ve le faccio vedere Questa qui nera Con tipo tutti i glisterini e argento E questa qui è argento Con tutti i glisterini e argento Adesso le apro Questa qui molto carina Sempre questo è il lato di dietro E in pratica qui Ha tipo il fiocchettino E ha anche tipo quel copo di ferro dentro Per mettere nella direzione di buon fiocchettino Non so come si chiama E poi Questo qua Che è argento In pratica E ha sempre il fiocchettino Il nodino Sono molto carine Poi sempre questa qui C'è un'altra Che se non ci dà sempre la confezione Ed è in pratica fatta Così con l'astellina E anche questo mi piace Un tanto Girolamo Perché è troppo doppia Infatti quando la devo mettere Faccio il doppio nodo Ma quando la piego E quando la piego È perfetta Mi piace anche questa È fatta così E poi un'altra È questa qui Rosa È stra bella Ehm Appunto rosa È fatta così Molto semplice Rosa Anche se è più estiva Però l'ho voluta prendere Perché magari anche l'estate La metto Ciao Poi ragazzi C'è questa collana Di Teddy Whale Con in pratica Il pandacorn Come sapete Il pandacorn Diciamo È un po' la mascotte Del mio canale Quindi sono Troppo felice Appunto È fatta così Ed è Troppo bellina Appunto Il pandacorn Andando per i negozi Poi Ho trovato Questa magliettina Troppo bellina Di veluto In pratica Un po' Collo alto Diciamo E Le maniche così Ed è bellissima È anche un po' Tipo corta Di veluto rosa E amo le cose di veluto E sta portando Un sacco di veluto Quindi Ho comprato una gonna I codini Che dopo vedrete Questa qui è molto bella Questa qui è molto bella Questa calza donna Ho comprato Dei calzi Calzi No Dei calzi no Però Vi voglio far vedere Prima queste Calze lunghe Che in pratica Ho comprato Non da calze donna Però erano troppo carine Vedete Con le stelline Sono alte E erano forse a ginocchio Non lo so Quindi sono nuove Non lo mai provate Vedete Non ho ancora lo scotch Poi Altre Sono queste qui Appunto quelle di Calze donna Allora Ci sono questi calzini Che sono Della nuova collezione Con il pompon Vedete Rode Esiste di vari colori Ma questo pompon È caduto Perfetto Questo pompon È troppo morbidoso Troppo carino Troppo Piccolino Guardate E mi piace E mi piace Un sacco Ne voglio prendere Altri Come questo pompon Poi Questi qua Che sono sempre Neri Vedete così Anche questi Penso Da una collezione Fatti così Verdi e rossi Tipo modello Mi piacciono Molto Vedete Mi piace Molto Anche Tico Farire Svoltini E Sono Belli Poi Ci sono Questi calzini Lunghi Sempre di Calze donna Sono troppo Belli Vedete Con le Rose Appunto E sono troppo Carini Mi piacciono Un sacco L'unica Pecca Di questi Calzini Che è un Calzino Alla rosa E un calzino No Quindi È un po' Una pecca Però Ho comprato Solamente Una magliettina Sempre di Velluto Come vi ho detto Mi sto facendo Di veluto Ed è fatta Così Nera In pratica Con l'elastico Anche sotto Ed è fatta Così Appunto Di veluto Molto Carina Mi piace Yeee E ce ne ho comprato Quattro cosine Troppo carine Allora Vi faccio Vedere Questa Donna Molto Molto Bellina Rosa Vedete Di Velluto Mi piace Un sacco Anche Con le Cazzino Io l'ho fatto Vedere In Cazzolonia Secondo me Ci sta Benissimo Mi piace Molto 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 E poi Questi codini Tipo di Velluto Vedete Uno Velluto Rosa Uno Velluto Viola Uno Velluto Fuxia Sono Molto Carini Poi Sempre Appunto Da Eccellemma Un'altra Cosa C'è In questa Busta E poi L'altra Cosa In questa Busta C'è In Prima Questo Tipo Maglioncino Bordeaux Molto Carino Vedete Ha Collo 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 Altissimissimo Guardate E in Prima Molto Carino Questo Non l'ho Ancora Messo Perché Fa Veramente Calvissimo Ve ne Dice Ancora I Cartellini Infatti E Molto Carino Però Mi Piace Anche Perché La Particolarità Perché Sono Le Troppo Bella E Non So Cosa C'è Iscritto Però Va Bene In Prima C'è Questo Cerchio Power Baby Che Molto Carino Molto Bello In questo Tanto Poi Anche Perché Rosa E Sapete Che Amicosa Da Zara Ok Perfetto Da Zara Ho Fatto Gli Ultimi Acquistini Sono Quattro Probabilmente Che Uno C'è Il Legget Di Pelle Nero Non Me Lo Posso Vedere Perché È Bianco È Grigio Però Con Le Schumature Bianche Nere E Alle Lattite Qua Nero Poi Una Che È Bellissima Solo Che Questa Qui E La Rosa Sono Abastanza Pesante All'interno C'è Sono In Prima Forse La Metta Non Lo So Quindi Fa Ancora Bastanza Caldo Per Metterla Ad Questa Che Addosso Non Ha La Metta Dentro Più Di Tra Metto Infatti Vedete C'è Ancora Il Frattino Siamo Quell'altra E Questa Qui È Molto Carina Anche Quell'altra Mi piace Di Più Però Anche Perché Rosa Però Questa È Molto Carina Lo Da Da Meno Di Una Settimana Però È Molto Bello Mi piace Un Sacco E Qua Tipo Una Toppan Con Il Fulmine E È Fatta Così Molto Bello Mi piace Un Sacco Rosso Ragazzi Allora Adesso Vi Dico La Cosa Più Importante Di Questo Video Cioè Che Non Ve la Dico Non Ve la Dico Non Ve la Dico Ok Ve la Dico 1 2 3 Ci Incontriamo Già Avete capito bene Dopo tantissimi Anni Di Po Di Richieste Che Me Lo State Richiedendo Ci Incontriamo Infatti Perché Abbiamo raggiunto I 20.000 Iscritti Come Speciale Di 20.000 Iscritti Farò Altre Cose Però Volevo Fare Una Cosa Molto Carina Quindi Ho Deciso Di In Un Centro Commerciale Veramente Fantastico Il Centro Commerciale Preferito Cioè Il Centro Commerciale Campania Caserta E Appunto Ci Vedremo Dalle 18 Fino A Non So Che Ora Diciamo Non È Assolutamente Programmatato È Una Cosa Che Voglio Fare Io Fuori A Da Tiger Appunto Così Possiamo Andranno Anche Shopping Magari Da Tiger Ci Vediamo Fuori Da Tiger Spero Che Verete Intantissime Qua Vi Metto Un Sondaggio Qua Da Qualche Parte E Ditemi Magari Tu Rispondete A Questo Sondaggio Se Verrete Io Sono Molto Felicia Se Vediamo Così E Niente Allora Il Video È Sondaggio 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 Sondaggio